Siamo in compagnia della maestra Agnese Di Biasi nella palestra Dirty Dancing School ad Agropoli per parlare di un importante momento che si terrà sabato e quindi i campionati mondiali a Torino di Latin Dance. Quattro delle allieve della Dirty Dancing parteciperanno a questa importante data. Allora Agnese siete pronte? Come vi state preparando? Come al solito diciamo che sono sempre eventi molto impegnativi. Lo so che siamo tornati da pochissimo dalla Sardegna da un risultato meraviglioso quindi speriamo di fare bene anche nel Latin Show. Siamo stati convocati dalla federazione quindi andremo a rappresentare l'Italia nel mondo. Ovviamente ci saranno 32 nazioni e niente ci stiamo preparando, stiamo ballando tutti i giorni dalla mattina alla sera. Comunque è un evento molto importante. Poi la soddisfazione comunque di essere convocati è un'esperienza diversa dove le ragazze balleranno in duo e da sole. Quindi si metteranno a dura prova anche singolarmente non solo nella squadra come i campionati di Sincrolatini in Sardegna. E' la prima volta che partecipate a questo campionato? Sì, per quanto riguarda un mondiale sì. È la prima volta che c'è stata la convocazione da parte della federazione perché adesso praticamente la danza sportiva e soprattutto determinate discipline e in questo caso anche il Latin Show sono entrate in un circuito che interessa a livello internazionale e quindi per la prima volta si faranno i mondiali di Latin Show. Bene, noi vi facciamo i migliori auguri, un in bocca al lupo davvero corale da parte della redazione di Cilento Channel e mi raccomando portate a casa il titolo di campionesse mondiali di Latin Show. Speriamo comunque di fare la finale, poi è ovvio che noi non è che non ci vogliamo accontentare del secondo posto, è che sono quattro anni che vinciamo il titolo di vicecambioni del mondo, però voglio dire sono contenta lo stesso magari, però voglio dire se proprio devo arrivare fino alla fine preferirei, comunque speriamo di rappresentare al meglio la nostra nazione e soprattutto anche Agropoli perché noi siamo agropolesi. Grazie, in bocca al lupo, speriamo che ci porti fortuna a Cilento Channel. Va bene, noi speriamo insomma di farvi da portafortuna. Grazie alla maestra Agnese Di Biasi.